Il nostro è un paese che dibatte, che non si appiattisce sulle energie del Premier, perché questo fa bene a voler le riforme, speriamo non siano tutte come le riforme delle province, ma nella sua volontà maggiore c'è quella di vincere per la sua politica, speriamo però che le future riforme, partendo anche da un Italicum che secondo me dovrebbe essere rivisto, possano essere benefiche per la collettività, ma la collettività stessa, la stessa che guarda magari con simpatia al Primo Ministro non è appiattita e organizza manifestazioni pacifiche e cerca un confronto per trovare soluzioni. Domani in sé città d'Italia, ma un po' in tutta la penisola, i docenti manifesteranno per un futuro degno, sì perché sono decenni che gli insegnanti, coloro che hanno un obbligo di formare le future classi dirigenti, subiscono uno Stato e se ieri Renzi ha replicato dicendo quattro fischi non mi fermeranno, poi li ha incontrati, speriamo abbia questa capacità di confronto e di assunzione anche di rivindicazioni giuste da parte del personale docente delle scuole italiane, ma alle manifestazioni pacifiche ci sono state nelle scorse ore purtroppo le vergognose manifestazioni anti-expo volute dai black bloc, che nuovamente si sono resi protagonisti di violenze, imbrattando, sporcando, deturpando alcune strade di Milano, ma ancora di più bruciando auto di semplici cittadini, gli stessi che probabilmente stanno ancora pagando delle rate per potersi permettere la quattro ruote da usare per cercare un posto di lavoro o per recarsi sul proprio posto di lavoro. E quanto è accaduto a Milano ci fa comprendere chiaramente la diversità di impostazione tra il gruppo dirigente, tra la politica e i cittadini, i semplici cittadini che poi sono e potrebbero essere anche gli elettori di questi. Voglio sintetizzare rapidamente perché il significato è chiaro nella differenza tra noi e molte volte chi ci rappresenta. Quando i politici rubano, i colleghi politici dicono non siamo tutti uguali, ma mai quei colleghi politici hanno pensato a proposito delle ruberie mettiamo qualcosa ognuno di noi e rimborsiamo il cittadino. Sì perché quando sono sottratti soldi in modo illecito da appalti pubblici o da fondi pubblici come è successo in tante regioni, quei soldi non saranno più utilizzati per offrire a noi servizi e saremo noi che saremo costretti nuovamente a riempire le casse dello Stato di quei soldi che sono stati rubati. Nessun politico ha mai pensato di dire rimborsiamo noi gli errori e i furti fatti dai nostri colleghi. Ieri invece a Milano i cittadini hanno rimborsato i loro conterranei sacrificando la domenica e le ore di lavoro e anche dei soldi per comprare materiali vari e poter ripulire una città deturpata e violentata da propri conterranei. Ecco la politica non rimborsa mai, il cittadino ha avvertito il senso etico e morale di essere vicino a coloro che hanno subito le angherie violenti dei black bloc. Quando la politica farà come i cittadini di Milano allora potremmo dire che quella nobile arte della rappresentanza domani.